Eccoci, siamo con Gian Antonio Stella, quindi volevamo chiedere dopo il libro della casta, diciamo, il 2007 scritto con Sergio Rizzo, attivamente è uscito quest'altro sulla burocrazia diciamo italiana, un'altra casta, per quale motivo è tanto facile rendere la vita difficile agli italiani? Ma lì si è creato un ingorgo che va assolutamente sciolto, cioè la classe politica, è diventata sempre meno rappresentativa, sempre meno anche preparata, c'è stato un processo di mediocrizzazione della classe politica, non lo dico io, lo dice il professor Antonio Merlo della Penn University di Filadelfia che ha scritto appunto un libro sulla mediocrazia della classe politica italiana, va da sé che se tu eleggi Fanfani, Andreatta o Bisentini sono loro che danno gli ordini al capo di gabinetto, se tu eleggi Scinipoti, Trotta Bossi o piuttosto che Antonio Razzi, questi qua diventano, quello che comanda è il funzionario che li appoggia, funzionario sui quali si appoggiano perché non sono in grado di... e si è creato un sistema abnorme che ha spinto per esempio il professor Antonio Ichino che è un esperto di diritto del lavoro ad alzarsi in Senato sventolando la legge che stavano votando e dicendo questa è una legge sul lavoro, io sono un esperto di lavoro, insegno da 40 anni il lavoro, però dice io non capisco nulla di questa legge, non capisco nulla, sfido chiunque di voi a capire qualcosa di questa legge. Questo cosa significa? Significa che c'è una, tu l'hai chiamata una casta, io sono d'accordo, c'è una casta di burocrati che in qualche modo si è impossessata dall'aspetto tecnico dello Stato sotto il profilo tecnico e governa senza essere mai stata eletta e questo è un problema di democrazia perché nel momento in cui Perpino Ichino non capisce nulla di una legge che sui temi suoi vuol dire che quel burocrate che non ha eletto nessuno è il padrone di quella legge perché è l'unico in grado di interpretarla. Non lo fa gratis, lo fa come ha dimostrato Carlo Cottarelli, il commissario Spending Review, facendosi pagare mediamente il doppio dei suoi colleghi tedeschi e questo è inaccettabile.